allora ben ritrovati i miei discepoli oggi torniamo in laboratorio come l'altra volta con un altro materiale succoso da costruire lo faccio vedere si tratta di un olivastro quindi pianta che spara a tutte le parti l'ho preso perché perché c'ha un gran potenziale è proprio è un ciocco tutto chiuso così che va a sua punta c'è una roba c'è un secco della madonna anzi ve lo faccio vedere adesso 360 gradi così vi spiego poi tutto ovviamente per me non ci sono problemi se la volete mi iscrivete in privato con calma vi dico il prezzo vi dico subito che è basso e vi dico anche subito che c'ha c'è una bella dinamicità c'è sta curva qui torna qua c'è già tutti i rami poi la cosa buona che fa anche i rami sul tronco questo è perché non li basta quindi spara per tutte le parti come lecce come tutte queste piante qua è un pochettino da sistemare per quanto riguarda il primo ramo questo qui è andiamo a vedere volendo si può fare anche senza questo ramo qua secondo me però visto che c'è per me è una bomba per me è una mamma mia c'è un piede anche questo è una spanna sono 25 centimetri poi grosso cioè viene fuori basso e grosso proprio come deve essere per quanto riguarda la costruzione di piante serie tutti i rami anche questo un altro ramo di profondità che servirà al cento per cento qui c'è un altro butto 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 anche qua butto anche lì c'è un butto anche qua in giro mamma mia c'è un secco della madonna e quindi facendola stringiamola ragazzi queste sono quelle piante che hanno foglia piccolina che sono selvatiche quindi resistono bene al caldo al freddo nessun problema sparno di continuo basta dargli l'acqua con cima bomba e questo in primavera mi fa il mondo e poi va sistemate come cazzo vi pare non sapete come sistemarla non c'è nessun problema me la prendete prossimo anno verso giugno quando ha fatto tutti i rami me la portate in due secondi tattata due fili e vedrete che cazzo viene fuori la rivendete al triplo di quello che avete preso ok perché un conto è una pianta già finita ok che può costare di più però è già finita ok invece una pianta che costa un po di meno è da costruire se uno la sa impostare bene e tra l'altro ci sono anche i miei video corsi che uno tra l'altro anche gratis questo mese se uno sa impostarlo bene ragazzi pensate una volta finita con tutta la chioma e vi ripeto si può fare anche senza primo ramo perché questo secco qui si può anche liberare nel senso che primo ramo diventa questo e poi si fa scendere tutto un bel ramo qua e si va a completare cioè viene fuori il piede che fa così fa così primo ramo che va sopra il piede della pianta praticamente più tutta la profondità qua viene fuori una bomba allucinante ok quindi secondo me sto primo ramo qui si può anche saltare tranquillamente bisogna vedere semplicemente bisogna vedere niente c'è già tutti i butti anche qua a posto è una bomba pensateci pensateci due secondi anche qui perché tanto lo sapete purtroppo ragazzi non è che voglio fare lo sborone anche se lo sono la questione è molto semplice io sono claudio bonsai ogni tanto mi capita qualcosa perché mi capita qualcosa ogni tanto per il sono dei miei clienti che a volte vogliono vendere velocemente delle piante e quindi io vado lì soldi alla mano pom e me le porto a casa ok quindi la questione qual è se le vendo bene se no la pianta a questo punto è mia me la porto avanti una volta impostata ovviamente vale 500 euro in più c'è poco da fare cioè è così cioè il mio lavoro la mia capacità di sistemare e dare una forma a un materiale trasforma quel materiale grezzo in un pre bonsai di altissimo livello ok quali sono i primari impostati dopo un gioco da ragazzi andare avanti semplicemente bisogna un pochettino regolare i rami nuovi e andare a fare potature per andare a riempire per il resto queste sono piante che vegetano da sole cioè vanno in automatico come avete visto nei miei video precedenti gli altri olivastri gli altri aceri non è che ci ha fatto un miracolo cioè concime acqua luce ok e dopo lì tanta tanta manovra perché tanto alla fine più rami fa più abbiamo possibilità di scegliere come sistemare queste piante però vi dico semplicemente che se vi piace secondo me un bel ciocco come questo può avere un gran futuro anche perché i rami ci sono già tutti praticamente se non ci sono li sta facendo tutti i germoglini nuovi cioè gli olivastri sono famosi per fare anche i polloni c'è che buttano altre parti quindi molto facile cioè nel prossimo video così vi presento un'altra bella bomba è un periodo florido c'è un periodo dove dove c'è un bel giro dico la verità per carità non sarà sempre così perché a dire la verità quasi finita nel prossimo video quindi approfittate per come vedete poi le piante quando sono belle dopo non ci sono più dopo mezz'ora che le faccio vedere si arriva sempre tardi anche se si scrive subito un messaggio io magari lo leggo dopo lo guardo dopo mi perdo perché ho altri messaggi gente che mi chiedono consigli quindi attenzione se la pianta vi piace mettetevi in azione subito ok ciao a tutti claudio bonsai.com se volete acquistare i miei prodotti che funzionano ok se non sapete cosa comprare c'è il mio numero qui su whatsapp ciao a tutti